Se credo che abbiamo un piccolo, enorme, gigantesco problema, sono entrato nella Big Vanilla, stavo volando, così nel nulla, ma non ho più sulla mia armatura, come notate, non ho niente, se non la mia elitra e in più nel mio inventario non ho più nessun mio oggetto fatto di nederite diamante. Eeeh, non comprendo, non capisco il motivo, voglio tornare subitissimo a casa perché non so cosa diamine sia successo, comunque benvenuti e bentornati in questo nuovo video della Big Vanilla. Allora, facciamo una cosa, salutiamo subitissimo i nostri campioncini che con l'hashtag Minecraftita ci hanno salutato nell'altro scorso video, cioè Matteo, Giulia e anche Serena, mi raccomando se volete essere saluti anche voi in questo nuovo video di Minecraft, cioè in realtà nel prossimo dovete commentare con l'hashtag Minecraftita e a sto punto dovrò porre un nome per la mia elitra incredibile insieme all'hashtag Minecraftita e guardare tutto quanto il video dall'inizio alla fine, se no non vi posso salutare ragazzi, quindi mi raccomando. Ma perché io non ho più i miei oggetti? Perché là in fondo c'è un libro? Allora, ragazzi, in realtà il libro è da un botto di tempo che non mi compariva, qualcuno... Perché c'è scritto ban? Perché c'era scritto ban? Ragazzi? Ban by Big L. Ma che cacchio mi state dicendo? Dato che hai creato un'armatura non legale, ti è stata tolta completamente nascosta in casa tua, forse ti verrà sbloccata per avanti se metto oggetti non legali di nederite diamante. Oh, oh, mi sa che ho fatto una cavolata ragazzi, l'altra volta dovevo fermarmi alla nederite di smeraldo e non craftare la nederite di diamante? E per questo motivo è stata bannata la mia armatura e i miei oggetti, anche la mia spada del big generale! Oh cacchio ragazzi, io non ho... Scusatemi, io con me ho ok della nederite di diamante nell'inventario che non posso utilizzare, ho solo due pezzettine di nederite di smeraldo, però non ho nient'altro! Allora, fatemi un attimino scendere perché il ferro dove c'è... Ce ne ho 41 pezzi, però voglio vedere se da qualche parte ho ancora degli oggetti di diamante, ok, ne ho lì dentro alcuni, qua ho altro ferro, qua non ho più nederite, devo andare a farmare... Eccola! La mia bellissima armatura! Perché non posso rompere il vetro! No ragazzi, non posso rompere il vetro di questa... È nascosta qua dentro! E credo che in quella casa ci siano anche i miei oggetti! Cos'è sto rumore? Aiuto? Sento un rumore... Stranissimo? Tipo pipistrelli? Che cacchio di rumore è ragazzi? Allora, io non voglio farmi domande, ma la mia... Povera armatura di diamante è qua dentro! Allora, facciamo una roba, devo assolutamente... Ma vedo delle particelle, che cacchio sta succedendo? Devo assolutamente, diciamo, procurarmi degli oggetti di nederite che ho già da qualche parte! E provare a ottenere delle nederite di ferro, poi di oro e poi di smeraldo! Qua, mi ricordo ragazzi, avevo delle armature con me che erano abbastanza potenti! Federfall Inter Protection 3 va più o meno bene! Protection 4, qua questa c'era spinta era veramente OP! Qua abbiamo un piccone che purtroppo è con Silic touch l'arco 2.0! Noi abbiamo questo qui che è l'arco di Buddy! Che in realtà dovevo darli ragazzi! Che poi ho scambiato col mio che poi ci siamo scambiati a vicenda! Quindi mi sono tenuto alla fine l'arco di Buddy, devo rinominarlo arco del Big Generale! Facciamo così, rinomiamolo subitissimo! Arco del Big... del Big G, chiamaci così ragazzi! Del Big G! E, però, calma un attimo! Perché io adesso ho una spada, ho un piccone, non ho un'ascia! Mi manca la testolina, da qualche parte dovrei avere anche una testolina! Vediamo se qua... Ho una testolina! Qua un piccone nuovo! Allora, ok, otteniamoci questo piccone nuovo! Qua abbiamo della nederita di... Uuuuuh! Ottimo, 12 pezzi nederita! Qua abbiamo anche una bella ascia! Questo piccone qua era quello prima di con Silic touch! Possiamo unire queste due testoline e fare una testolina unica! E almeno in questo modo ragazzi, piano piano, possiamo anche ottenere una bellissima armatura! Bellissimo un parolone, eh! Però comunque è un'armatura che potrebbe essere utile per noi! Allora, facciamo che... Ma scuattemi, prima ci costava 15! Ok, 15 livelli, meno male! Allora, questa armatura qua sicuramente non sarà potente quanto la nostra armatura di prima ragazzi! Questa spada qui sicuro non sarà forte come la nostra prima perché ha solamente Sharpness 4! Però ragazzi, ci sono stati bannati completamente tutti i nostri oggetti! Ma io prima comunque sentivo un rumore super super strano! Perché c'è un pipistrello che vola? Ma che diamine era! Ragazzi! Ragazzi! C'è un pipistrello che vola! Aiuto! Ah! Che cacchio è sta roba? Aiuto! C'è un Vex Boss! Aiuto sopra un pipistrello! Ah! Scappo! No! Allora, ragazzi! Ragazzi! Allora, che cacchio sta diamine succedendo in questo mondo di Minecraft? Allora, io voglio assolutamente categoricamente craftarmi delle nederite di ferro ora e più che mai in questo momento! Allora, facciamo così! Riusciamo a... Quante ne facciamo così? 8, 12, 7 pezzi? Non so contare! Aiuto! 9, 10 pezzi! Ah! Aiuto! Cosa diamine era quel Vex? Non l'ho mai visto in vita mia! Sopra un pipistrello! Boss! Allora, ok! Ragioniamo con calma, per favore! Perché io qua devo fare almeno quella di oro, quindi a questo punto così si fa quella di oro e poi questa la trasformiamo istantaneamente in nederite di smeraldo! Ma andiamo dopo, per favore, a scoprire cosa diamine succede! Perché ho paura! Allora, qua ci facciamo quella di smeraldo! Uh! Almeno, ragazzi, abbiamo degli oggetti con noi che non saranno P! Lo accetto! Perché comunque è il Big L che credo che sia stato a questo punto il Big Ladro, ragazzi! Non so perché si è firmato questa volta in questo modo, ma sono un po' stupido perché ho trasformato tutta quanta nederite e... Non posso! Sono... Sono stupido, ragazzi! Sì! Devo andare a farmare la nederite perché ho appena fatto un iper gigantesco fail e prima dovevo trasformare in nederite normale, poi quella di iron, poi quella di gold e per smeraldo! Vedete che The Mark è poco furbo, ragazzi! Allora, ho della... Ok, ho la finita stile, altra TNT! Allora, facciamo che c'è questa armatura qua, ce la mettiamo tranquilli e andiamo un po' nel neder a formare della nederite, che comunque era una cosa che avrei dovuto comunque fare, ragazzi, perché o avrei fatto la nederite quella di gold oppure quella di iron e poi così via, quindi mi serve veramente tantissime nederite! Credo io avrei fatto un tunnel molto lungo e abbastanza per tutta quanta questa TNT e mi sa che tra un po' ne farmerò veramente tante le nederite, ragazzi! Andiamo a vedere subitissimo! Già qua ne vedo due pezzettini, molto molto bene! Bene The Mark, bravissimo, col fiuto per la nederite, quindi prendiamo tutta quanta questa bellissima Anson Debrie che mi è caduta perché ce l'ho in mente, ero pienissimo! Aia, aia, devo far parkour tra la lava, aiuto, aiuto! C'è un'altra lì? Au, anche qua! Sta lava finisce di darmi fuoco, dannazione! Altri tre pezzettini in mezzo al fuoco, molto bene! Anzi, quattro, ottimo! Qualcuno mi spiega come ci sono passate le schiare di morire per dare la nederite ad aver avuto nello scorso episodio della nederite in diamante, che era invincibile! Ok, altri due pezzettini là, poi vediamo se c'è qualcosa altro, eh! Sta andando più o meno bene la nostra cattura, perché c'è un piglin, un enderman là in fondo, dannazione a me, dannazione! Ah, è un enderman e anche boss? Buongiorno! No, noi siamo amici! Ah, no, 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 più armature mederite gold! Eh, eh, questo è un gran problemone, ragazzi, aiuto! Buongiorno, 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 buongiorno anche a voi! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Allora, un po' di Anson Debrie da qua ce ne abbiamo, ne abbiamo 29! Credo che in questo modo riusciamo a ottenere tecnicamente dell'armatura di smeraldo, di ferro, e poi tutto quanto il casino deviamo fare ancora, dannazione! Vi pare che il big generale possa rimanere con questi attrezzi qua? Però, ragazzi, purtroppo l'errore l'ho fatto io, lo devo ammettere, assolutamente! È la mia bellissima armatura! Guardate qua! Di diamante nederite! E la sua cesta a fianco piena zeppa dei miei attrezzi! Ok, intanto ho fatto altri quattro pezzi nederite con quello che sta cuocendo, ma io c'ho l'inventario stracolmo di nederite! Che fastidio, ragazzi, nederite! La nederach è veramente il blocco più utile dell'universo! Quindi questa qui la possiamo fare direttamente così in ferro, vediamo un attimino se riusciamo a farne quattro pezzi per ora, che riusciamo a fare la nostra armatura bellissima, almeno questa qua in nederite, ragazzi, di ferro ci serve assolutamente, quindi togliamoci questi pezzettini qua e la trasformiamo in nederite di ferro. Uno, due, tre e quattro. E il prossimo oggetto sicuramente in nederite di ferro ci va la nostra spada, perché se no non possiamo andare avanti nelle battaglie, e il resto a sto punto lo trasformiamo in nederite di gold. Riusciamo a farne quanti... Mamma, pochissimi pezzi, ragazzi! Riusciamo a farne... Ben... Ho fatto una cavolata facendo tutta quanta sta roba qua in smeraldo, la potrò utilizzare solo nel prossimo episodio, quindi. Solo due pezzi nederite di gold. Vabbè, ragazzi, ci hanno bannato gli oggetti. Abbiamo sbagliato noi. Eh, non ci possiamo fare nulla. Quindi qua dobbiamo trasformare questa qua in oro. Quindi questa qua prima in ferro. Uno, due, tre, quattro in questo modo. Poi così facciamo quella in oro. Uno, due, tre... Vabbè, va bene, va bene. L'ho accetto, ragazzi, per un mio errore giusto così, quindi. Uno e la chestplate due. Vabbè, va bene. Mi terrò questa spada che non è quella del big generale così, in gold nederite. E la chestplate, il resto tutta quanto in ferro. Eh, ma io prima comunque ho visto quel dex, ragazzi, sopra un pipistrello. C'è una roba che non avevo mai... Ma lì abbiamo un po' troppo mostrilli, ragazzi. Facciamo che ci avviciniamo. Prima che colpiamo il mostrillo sbagliato. Questo qui è un mostrillo 1.0. Non mi eliminare, come hanno fatto gli altri, il mio mostrillo 1.0. Che sennò mi impazzisco, eh. Scusami, il mostrillo me ne vado, me ne vado, giuro. Ma perché da fuoco ogni volta? Tutta quanta la zona della Big Vanilla. Vabbè, ragazzi, io spero che questo episodio qua della Big Vanilla voi sia piaciuto. Vi abbiamo dovuto rifarmare tutto quanto dall'inizio alla fine. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Marche è tutto, ragazzi. Iscrivetevi e attivate la campanella e le nostre quante notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video.